Mister, buongiorno. Volevo sapere se alla luce della partita vista lunedì tra Modena e Reggiana ha preso qualche spunto utile per studiarla questa settimana. Certamente l'abbiamo seguita con grande attenzione, l'abbiamo vista in diretta e poi l'abbiamo anche rivista durante la settimana come tutte le altre partite che ha svolto il Modena ma come è il nostro consuetudine e come consuetudine di tutti, penso, gli staff tecnici perché cerchiamo di non trascurare nessun tipo di dettaglio e di andare a carpire quelle che possono essere pregi e difetti di una squadra e provare poi a creare quelle situazioni che ci possano far raggiungere un risultato positivo. Mister, buongiorno. Buongiorno. Allora, domani affrontate la terza squadra consecutiva di fila, diciamo, tra le squadre che ambiscono al salto di categoria. Tu che tipo di analogie trovi rispetto alla Virtus Centella e al Siena anche come tipo di gara che il Teramo dovrà fare? Sono avversari costruiti diversamente. Chiaramente ognuna di queste tre squadre ha dei grandissimi valori. La squadra che affronteremo domani, il Modena, è una squadra di grandissima esperienza, di grande struttura, di fisicità, di grande qualità tecnica, allenata da un allenatore vincente, di grande esperienza. Quindi, insomma, è una partita come le altre due, ad alto coefficiente di difficoltà che sapevamo all'uscita del calendario il nostro inizio fosse così complicato. Detto questo, io mi aspetto che i ragazzi riescano a mettere in campo quella che è la nostra mentalità, quella che è la nostra identità, che ci deve contraddistinguere contro chiunque. Noi dobbiamo avere rispetto e preparare la partita al massimo contro chiunque, qualsiasi sia il nome e la difficoltà della gara, ma in campo noi vogliamo essere propositivi, cercando di fare un calcio in cui i calciatori si riconoscono protagonisti, cercando di voler la palla e cercare di andare così facendo, a mettere in difficoltà qualsiasi avversario. È una partita difficile, una partita che loro hanno esperienza nel reparto arretrato, con pergref, ingegneri, se ci sarà Silvestri, hanno grandissima qualità in mezzo al campo, unita a tanta fisicità, mi riferisco a Gerli, Armellino, Scarcella, ma lo stesso di Paola che ho avuto anche in Nazionale Under 20, e poi la tantissima qualità che dispone nel reparto avanzato, con Tremolada, Minesso, Mosti, Marotta o Gonseillet, che abbinano tecnica uno contro uno, attacco agli spazi, capacità fisica e abilità nel gioca aereo. Insomma, è una squadra in cui dobbiamo stare iperattenti in ogni situazione di gioco, perché sono pericolosissimi, però è altrettanto vero che noi vogliamo giocarcela in maniera coraggiosa, cercando di emozionare la nostra gente, senza precluderci di poter fare un risultato positivo. Buongiorno mister. Dunque, volevo chiederle le sue sensazioni per questa trasferta, che è inutile nasconderlo, è insomma complicata. Sarà un termo propositivo? Sì, no, ma questa è la nostra mentalità, l'ho detto in precedenza. Noi non vogliamo snaturarci, anche perché penso che nel momento in cui snaturi quello che vuoi essere, difficilmente puoi essere propositivo oppure esprimere al massimo le tue abilità. Noi dobbiamo essere coraggiosi, consapevoli di tutte le difficoltà che troveremo di fronte a noi, ma sono altrettanto convinto che se riusciamo a superare le difficoltà diventiamo in primis dei giocatori migliori e poi una squadra migliore. Noi siamo una squadra giovane e chiaramente commetteremo delle sbavature, perché è fisiologico che sia o sì, però il nostro percorso, che ho iniziato un mesetto fa, ci impone di continuare a cavalcare quella che è la nostra idea di gioco, anche perché è così che si stanno allenando i ragazzi. Quindi nel momento in cui non riusciremo a essere propositivi, io penso che noi è più facile perdere le partite piuttosto che sperare un risultato positivo. Buongiorno, volevo chiederti se questa settimana ti ha dato sicuramente la possibilità di portare ad un livello di condizione superiore ai nuovi e quindi voglio chiederti a che punto sono quelli che sono arrivati l'ultimo giorno di mercato. È chiaro che non possono essere al pari degli altri, è fisiologico. Purtroppo molti di loro erano magari qualcuno fuori rosa nelle proprie squadre d'appartenenza oppure chi aveva svolto allenamenti solamente individuali e quindi non può essere al 100%. Non partiranno per questa trasferta degli ultimi arrivati in Montaperto e di Dio proprio per le cose che vi ho appena detto. Sono più indietro rispetto agli altri ma proprio dal punto di vista fisico e hanno bisogno e necessitano di lavori individuali per arrivare al pari degli altri. È chiaro che in questo momento della stagione, specialmente con il mercato chiuso da poco, che non ci sia una condizione omogenea per tutti i protagonisti del gruppo ma è così per tutti quanti. Dobbiamo avere un po' di pazienza e io penso che servirà alle prime 4, 5, 6 gare di campionato dove poi allora avremo una omogeneità di condizione per tutti quanti. Mister, normalmente nel calcio si dice che le grandi è meglio affrontarle subito. Quindi io non so se questo sia stato un limite per il Teramo o meno. Certo è che se immaginassimo il partitone e i tre punti a Modena forse cambieremmo il corso di una stagione e da questa angolazione che sarebbe fantastico riuscire nell'impresa. Possibile, perché no? No, ma nel calcio è impossibile, non c'è niente di impossibile. Chiaramente noi dobbiamo, come ho detto prima, dobbiamo avere il coraggio di provarci. Anche perché se no vivremo di rimpianti, di poter fare qualcosa e di non aver provato a farla. Noi questa cosa qua non dobbiamo nemmeno pensarla minimamente. E soprattutto non dobbiamo speculare sugli avversari. Non dobbiamo scommettere nella Dea Bendata. Noi dobbiamo giocare la partita e cercare di determinarla con quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre idee, perché la squadra si allena per fare certi tipi di cose. Noi ci vogliamo provare. E questo tutte le domeniche sarà così. Mai mi sentirete dire mi accontento di un pareggio. Partiamo 0-0 e cerchiamo di preparare la partita al massimo per provare a fare il massimo dei punti, non per speculare su qualcosa. È chiaro che è difficilissimo. Però a me piace sempre provarci. Chissà poi che al novantesimo, magari con una prestazione come quelle che abbiamo fatto a Chiaveri, come abbiamo fatto in casa col Siena, magari il risultato può essere anche a nostro favore. perché noi siamo soliti studiare anche i numeri delle partite, non possiamo dare un giudizio sul risultato finale, perché il risultato poi può dipendere da mille cose. Da un errore banale sottoporta, da un palo che entra invece, o un palo che va fuori, oppure da un fallo fischiato, oppure no. Noi i dati statistici inconfutabili sono che sia a Chiaveri e sia a Siena abbiamo dominato il possesso palla con entrambi, siamo una delle prime di tutte le 60 i gironici per possesso palla, abbiamo tirato più in porta degli avversari e abbiamo creato più occasioni da gol sia del Lentella che del Siena. E sul campo, per expected goal, meritavamo di vincere entrambe le partite. Quindi noi dobbiamo perseverare su questa strada, e questo ci non pone anche i numeri statistici di ogni gara. Quindi le sensazioni che abbiamo avuto erano positive, ma sono poi state confortate anche dai dati che sono inconfutabili. Ciao mister, ti chiedo se c'è qualche problematica fisica particolare nel gruppo, se Boa al posto di Azosmanovic o Rossetti al posto di Viero, sono dubbi che ti porterai domani oppure no? Sì, ma abbiamo provato diverse situazioni, per quanto riguarda fisicamente stanno bene tutti, Chiarema Teng, che era quello che, insomma, sapevate che aveva subito quel trauma sul collo del piede che ancora gli dava fastidio, abbiamo provato anche a forzarlo nella partita col Siena, ma poi non aveva sensazioni buone, quindi non abbiamo rischiato durante la partita, però sarà nel gruppo, anche se ha lavorato per gran parte della settimana in maniera individuale, proprio per non rischiare di alcun tipo di ricadute. Poi per il resto, le scelte che saranno fatte sono di ordine tecnico o di ordine di condizione fisica, come già abbia anticipato, che non saranno della spedizione, sicuramente molto aperto e di Dio, perché sono indietro dal punto di vista fisico. Secondo giro. Ah, scusa, non ho risposto per Rossetti, Viero, scusami. No, sono dubbi, sono dubbi, ma abbiamo provato anche qualcosa di diverso, non è detto che troverete la stessa formazione che è scesa in campo con il Siena, ma molto probabilmente anche per la strategia di gara che attueremo ci sarà qualche spostamento. sempre. Grazie.